Oggi mi è piaciuto l'atteggiamento, noi non abbiamo fatto nemmeno un amichevole mai, è la prima volta che giocavamo contro un avversario e questi ragazzi molto da febbraio che non giocavano. Avevo diversi esordienti per la primavera 1, quindi l'atteggiamento, la voglia di non molare mai, lo spirito collaborativo, quello c'è stato ed è la base per poi dopo poter lavorare su altri aspetti dove magari abbiamo faticato soprattutto sulla prima riconquista palla, abbiamo spesso sbagliato il primo appoggio e quindi abbiamo dato alla Lazio qualche pallone di troppo senza che loro lo meritassero e dobbiamo sicuramente migliorare in questa fase di impostazione, però diciamo che sono anche le parti più difficili dove ci vuole un po' più tempo. Grazie a tutti.